Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria, piena grazia, il Signore è con te. Tu sei benedita tra le donne, benedita il frutto del tuo Senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Preghiamo. Dio di potenza e l'eterno, mentre c'è di Marovia, vedici questa torta, questo cibo e questa famiglia, questa casa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ringraziamo il Signore per il ventituesimo anno di sacerdosio, 2001, 25 marzo 2001. Ecco, adesso ringraziamo la Madonna Immacolata per il dono, ecco, del sacerdosio. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Auguri! Auguri! Grazie signore di benedica per la cessione dell'Immacolata facendo su di voi, sulle vostre case, la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Ave, ave Maria